Buonasera e bentrovati a conto alla rovescia le amministrative questa sera partiamo da Campobasso poi nella seconda parte di trasmissione C concentreremo su Termoli. Buonasera e bentrovata Maria Domenica D'Alessandro, avvocato, presidente, direttore della scuola Forense e candidato sindaco del centrodestra a Campobasso. Allora le prime sensazioni quali sono? C'è stata l'indicazione del suo nome, la prima conferenza stampa, il primo incontro con la stampa, le prime sensazioni sue quali sono? Io personalmente ho un grande entusiasmo, non posso che ringraziare tutta la coalizione di centrodestra che in questo momento vede 5 liste e tutti i candidati che praticamente correranno insieme a me per questa grande sfida che è la sfida del rinnovamento della nostra città, soprattutto il rinnovamento della politica per la nostra città. Quindi c'è una sensazione positiva ma come sempre dobbiamo essere cauti e propositivi e quindi fare tutte le azioni che sono necessarie per convincere anche la cittadinanza del fatto che noi stiamo e vogliamo operare per loro. Qui vorrei innanzitutto, se me lo consente, lanciare subito un messaggio, quindi chiarire subito che ora al di là del programma e di quelli che sono i contenuti peculiari del nostro programma l'obiettivo principale del mio mandato, se i cittadini avranno fiducia appunto in me, vorranno darmi la loro fiducia e quello di occuparmi e di trovare soluzione per i problemi della gente e perché non si è fatto altro che parlare di problemi, si è fatta l'analisi dei problemi, i problemi li conosciamo tutti. Bisogna risolverli. Quello che non si sono sentite sono le soluzioni, quindi non c'è stata diciamo una illustrazione ed è questo il vero problema. Noi abbiamo trovato come coalizione alcuni punti nel nostro programma su cui puntare, naturalmente sono punti assolutamente condivisi e c'è stato anche un lavoro ascoltando la cittadinanza e quindi tutta la comunità, le associazioni di categoria, i comitati di quartiere abbiamo riportato quindi anche quelle che sono state le loro esigenze, le loro osservazioni all'interno di questo programma. Senta, lei vuole riavvicinare i cittadini giovani alla politica? Perché c'è molta distanza tra la politica e chi viene governato, no? Certo c'è un senso di sfiducia generale, anche perché conosciamo le condizioni della nostra città e respiriamo un po' questa atmosfera di degrado, devo dire. Vediamo questi esercizi commerciali chiusi, vediamo i giovani che non trovano lavoro e i loro genitori preoccupati, quindi non sono le condizioni ideali per il benessere, diciamo, di una comunità. Quello che dobbiamo ritrovare è lo stimolo a fare un salto in avanti, quindi andiamo avanti, cerchiamo di rinnovare la nostra città attraverso delle politiche concrete, quindi delle politiche finalizzate a risolvere i problemi, attraverso questa ricognizione, ma soprattutto una ricognizione sulle soluzioni. Senta, spesso si sente parlare di libro delle favole, no? Invece lei diceva giustamente che il programma che ha in mano, tra l'altro, perché insomma c'è un documento ufficiale, avete lavorato molto, il suo è un programma concreto. Mi dice una cosa, la prima cosa che farà qualora i cittadini di Campobasso dovessero darle fiducia? Questo rinnovamento partirà dalle persone. Non si può pensare ad una comunità in cui delle persone rimangono indietro, quindi per noi fondamentale è l'emergenza povertà, lo stato di indigenza in cui tantissime famiglie, forse molto più di quelle che noi immaginiamo e pensiamo, si trovano. Per cui noi pensiamo proprio di istituire anche un osservatorio del cittadino, una sorta di ufficio, diciamo, naturalmente con del personale specializzato, che possa fare una ricognizione delle emergenze effettive, quindi partendo da dei dati reali, e poi mettere in campo degli strumenti che possano, a seconda delle situazioni, porre rimedio a queste situazioni di disagio. Quindi particolare attenzione al sociale, questo sicuramente, e a tutte le forme di disagio, perché una comunità deve crescere insieme. Non possiamo pensare che una parte della comunità possa stare meglio, che l'altra invece vada peggiorando. Quindi una città a due velocità, noi parliamo sempre di un'Italia a due velocità, ma anche una città a due velocità non va bene. Senta, quindi una fase di ascolto, no? Per capire quali sono le esigenze del territorio. Senta, lei è una professionista, lavora a Campobasso, quindi le chiedo che idea di Campobasso, della Campobasso di oggi? Purtroppo io penso che ci siano state delle politiche sbagliate. Ciò che noi speriamo di poter realizzare, che noi realizzeremo, voglio dire, voglio usare questa espressione molto più propositiva, è mettere in campo delle azioni amministrative e politiche concrete, che sono mancate. Purtroppo noi ne vediamo gli effetti. Qualcosa non ha funzionato evidentemente. Assolutamente, questo sistema è collassato perché non è immaginabile che si possa pensare alla manutenzione delle strade nell'ultimo mese della campagna politica, oppure che si possa dire che c'è sicurezza nelle scuole, quando noi sappiamo che non è così, ma che comunque prima di questa competizione elettorale si dica che il problema è stato risolto. Evidentemente c'è qualcosa che non va, evidentemente questo sistema è collassato. E ci vuole, bisogna ricominciare dalle piccole cose, dalle piccole cose, per poi pensare a progetti sempre più ampi e per poter arrivare addirittura a progetti ambiziosissimi come possa essere quello della promozione, ad esempio della nostra città come capitale europea, prendo come esempio la città di Matera, ma perché no? Noi abbiamo un'identità culturale molto sviluppata, che però non è valorizzata al meglio. Quindi ci vorrebbe un piano che in qualche modo riesca a riorganizzarle, riorganizzare bene le varie iniziative per una promozione efficace, che quindi ci possa anche portare su piani diversi. Quindi come dico io, amo dire io, una Campobasso, città a dimensioni d'uomo, ma anche città a dimensioni europea, perché dobbiamo accogliere le sfide del futuro, non possiamo perdere, rimarremo assolutamente emarginati. Io dico andiamo avanti, ma purtroppo non possiamo volgerci indietro, perché se ci volgiamo indietro, penso arriviamo al disastro. Sfruttare al meglio le occasioni che ci vengono date appunto dall'Europa, quindi sicuramente bisognerà potenziare anche la macchina amministrativa. Bisogna intercettare risorse? Progetti, idee? Per intercettare le risorse, per intercettare le risorse, lo diciamo sempre, ma lì la macchina deve essere alla massima velocità, perché le occasioni si perdono facilmente e si tratta veramente di risorse importantissime che per un territorio come il nostro possono significare anche il ribaltamento, cioè quella trasformazione che noi vogliamo mettere in atto. Senta, io ho ascoltato con attenzione le sue parole durante la sua prima uscita ufficiale. Lei ha un sogno ed è quello di rendere la città di Campobasso vivibile, competitiva, attrattiva. Come pensa di farlo? Sì, vabbè. Intanto, come dicevo, primo interesse alle persone, quindi riportare una condizione di vita, un livello di vita che sia accettabile per tutti. Pensare a chi è rimasto indietro, no? E dunque poi occuparsi del territorio, quindi solo nel momento in cui, insomma, ci garantiamo che a tutti non manca quel contenuto minimo essenziale, quel minimo di servizi, quel minimo che possa rendere una vita accettabile e dignitosa, o cominciare a occuparsi anche del territorio. E innanzitutto rimettere in modo il tessuto produttivo, quindi delle attività commerciali, le imprese. Penso alle start-up giovani, cercare soprattutto di dare ai giovani, perché i giovani non debbano fuggire. Opportunità ai giovani? Opportunità ai giovani, perché i giovani non debbano fuggire. E' chiaro che da una città come questa quasi gli si dovrebbe consigliare di andare via, ma noi dobbiamo portare, diciamo, un tessuto vivo, un tessuto vivo, produttivo vivo all'interno appunto della nostra città, tanto da potergli anche invogliare a voler investire e quindi a rimanere, insomma, da noi. Bisogna contrastare lo spopolamento, che è un problema serio per Campobasso, per il Monizia in genere, ma anche per Campobasso. Purtroppo i tanti comuni sono assolutamente a rischio. Io ritengo da osservatore, cittadino, come tutti gli altri, che da tempo sarebbero dovuti fare ragionamenti intelligenti e sfruttare alcune opportunità, come le unioni dei comuni, le comunità montane, per fare la quadra su certi livelli locali. E quindi magari offrire dei servizi integrati a più comuni, perché non è possibile che anche nel singolo comune, piccolissimo comune, possano essere assicurati tutti i servizi. Non è realistico. Questi strumenti sono stati usati male e quindi non sono state sfruttate queste opportunità che sarebbe stato un bene cogliere. C'è da ripensare probabilmente anche su questo finché siamo in tempo. Perché per un territorio efficiente non ci può essere un'altra alternativa. Non ci saranno mai più, immagino, le risorse per poter dotare ogni singolo comune di tutti quei servizi che, diciamo, sarebbe giusto che avessero. Altrimenti rimangono realtà mortificate e potremmo dire anche lì vedremo sempre più il degrado e l'abbandono, che è una cosa, insomma, da evitare. Che non si può tollerare. È il contrario della valorizzazione. È il contrario della valorizzazione. Senta, lei tiene molto alla sicurezza delle scuole. Ecco, cosa ha in mente? Serve un piano scuole per la città di Campobasso? Cosa serve? Devo dire che lo avevo accennato già. Il tema della sicurezza è caro a noi tutti della coalizione. La sicurezza nella nostra città è un fatto importante, anche perché purtroppo ultimamente i dati che vengono dalla procura ci dicono che il fenomeno della droga, non solo, ma di tutte le dipendenze è sempre più allarmante. Quindi una sicurezza allargata, non solo alle scuole, ma un po' a tutti gli aspetti. Dobbiamo convincersi che non siamo più una realtà privilegiata. Forse siamo ancora in tempo sotto certi profili, ma ci vuole un'azione di forza, dico io, un attenzionamento particolare. Sicuramente sensibilizzare con tutti questi convegni, queste attività, sicuramente serve, perché comunque l'informazione è importante, ma bisogna poi anche pensare delle azioni di contrasto forti perché altrimenti diventa ugualmente dilagante. Quindi io immaginavo addirittura in maniera più dettagliata sul programma, insieme naturalmente a tutti gli altri amici della coalizione, abbiamo immaginato un potenziamento del corpo di polizia municipale, che attualmente non è dotato anche di queste competenze per svolgere un servizio di allerta di questo tipo, ma con corsi di formazione potrebbe essere preparato per dare anche questo tipo di servizio e quindi essere utilizzato per un controllo dentro e fuori le scuole, diciamo. Quindi questo potrebbe rendere più sicuri quei luoghi che sono più sensibili in relazione a questi fenomeni. Senta, parliamo anche un po' di sanità, perché un sindaco certo non può fare miracoli nel campo sanitario, perché le competenze, sappiamo, sono regionali e del governo nazionale. Però un sindaco può recarsi nella stanza dei bottoni, sbattere i pugni sul tavolo e pretendere che ci sia un servizio adeguato. Lei la sanità per la città di Campopasso come la immagina? Ecco, se i cittadini mi daranno la loro fiducia io andrò veramente a combattere per la sanità, perché è in qualche modo, tra virgolette, responsabile della sanità anche il sindaco. Certo non ha poteri di gestione, però sicuramente... La salute dei cittadini è un obbligo del sindaco. L'articolo 32 della nostra Costituzione non può essere dimenticato, ma soprattutto ognuno di noi veramente deve tenere alla salvaguardia di questo diritto che forse oggi ci sembra un po' meno diritto, perché sappiamo benissimo le carenze che ci sono nei nostri presidi a partire dal Cardarelli e non si può rimanere spettatori di questo fenomeno, pensare che il problema sia di qualcun altro. Il problema è di tutti noi, quindi ci vuole sicuramente un efficientamento, dico io, una riqualificazione energetica e quant'altro di tutta l'edilizia pubblica e privata, penso anche agli ospedali, penso anche all'edilizia scolastica. Quindi bisogna assolutamente porci il problema della nostra sanità, come poterla migliorare, come utilizzare le risorse al meglio. Parliamo anche di mobilità, perché Campobasso è il capoluo di regione, una città grande che accoglie soprattutto durante i giorni lavorativi tante persone, quindi va anche qui fatto un ragionamento diverso. È d'accordo con la mia considerazione? Sì, è d'accordo, perché poi le infrastrutture sono fondamentali. Sicuramente ci dobbiamo porre il problema del terminal, ci dobbiamo porre tanti problemi. Io personalmente ho anche l'idea che dovremmo potenziare questi collocamenti su Roma, perché non possiamo rimanere isolati. Questo è un collegamento fondamentale, quindi sicuramente bisogna lavorare molto. Penso comunque che sia necessario, al di là di questo discorso ampio, sia necessario proprio anche una manutenzione continua, una cura e una manutenzione continua della nostra città. Voglio ora allargarmi un attimo. Qualcosa che è mancato e che deve essere programmato in maniera continua. Campobasso la vede un po' abbandonata a se stessa? Assolutamente, le condizioni delle strade vediamo quali siano, strade marcia a piedi, diventano molto pericolosi per tutti. Senta, parliamo anche un po' di politica, di cosa l'ha spinta ad accettare questa nuova sfida. Innanzitutto com'è nata questa idea? Ci racconta qualche retroscena? Io ho una passione politica che mi anima da sempre, quindi ho sempre ragionato di politica, ho sempre pensato alla politica e ho fatto anche delle esperienze, ho anche un'esperienza come amministratore di un piccolo comune e naturalmente spero ora di mettere a frutto quello che ho visto, che ho capito. Sono arrivata ora a questa candidatura, ripeto, con l'entusiasmo di chi vuol vedere trasformare le cose, di chi praticamente è stanco, come penso ognuno di noi qui nella nostra città, di vedere le cose che non funzionano. Le cose possono funzionare, basta fare le scelte giuste, si devono fare le cose che si dicono e non bisogna illudere i cittadini, bisogna fare le cose realistiche, quindi senza illusione, non politiche di promesse. Cominciando, ripeto, dalle piccole cose, sicuramente si possono fare delle trasformazioni che poi tutti possiamo avvertire come miglioramento della nostra vita di ogni giorno. Sono dei particolari che possono fare la differenza. Senta, vuole spendere una parola per Tramontano, perché credo che si sia comportato da gran signore, con il passo di lato, ma anche con poi il supporto nella sua persona. Assolutamente, ma con Tramontano abbiamo già collaborato da quando pure io sono entrata nella Lega e sicuramente lui ha un'esperienza all'interno del Comune di Campobasso che lo rendeva una figura per noi spendibile anche nella carica di sindaco. Se la scelta è ricaduta su di me è stato semplicemente perché siamo riusciti a ricompattare la coalizione di centrodestra e quindi la collaborazione con Tramontano c'è sempre stata e continuerà. Senta, perché la Lega, lei prima parlava di sicurezza, no? È un tema che ha molto a cuore ed è un tema insomma a cui la Lega è molto legata. Perché la Lega, le dicevo? Ma io sono sempre stata nell'area di centrodestra, quindi i valori all'interno di quest'area sono comuni, non possiamo nascondercelo, quindi ritengo che non ci siano poi grosse differenze tra una posizione e l'altra su quello che è un contenuto minimo essenziale di valori. Senta, Campobasso tra i cinque anni, magari dopo che l'ha amministrata lei, come se la immagina? Me la immagino come capitale europea. Tutto qui. Come una città dunque non più di una piccola regione. Di una piccola regione, ma una città che può aspirare ad essere anche, ad avere il respiro di una città europea, in cui quindi ci possa essere anche un turismo accessibile. Tra l'altro quello che promuoveremo è anche questo, una premialità per quelle attività e quelle imprese che riusciranno a realizzare questo tipo di progetto, perché è anche previsto dal contratto di governo, quindi sono previste per il turismo accessibile delle premialità. e quindi portare sempre più visitatori all'interno della nostra città, inventandoci dei percorsi che possano naturalmente attrarli e che quindi ci possano rendere competitivi. Campobasso quindi, secondo lei, ha molto da offrire, ma non è stata fin qui valorizzata? Purtroppo a me non piacciono le polemiche, non piacciono gli attacchi personali, però gli effetti delle politiche che ci sono state negli ultimi anni credo siano evidenti a tutti. Noi abbiamo visto questa città spegnersi, un po' con il depotenziamento dell'università, un po' con la chiusura delle nostre attività commerciali che naturalmente poi rendono viva una città. Conseguente allontanamento dei giovani, ma non solo dei giovani, ha impoverito la nostra realtà, quindi mi pare evidente che dobbiamo reagire, questo è il momento di cambiare e dobbiamo reagire. E vale la pena, diciamo, di combattere per un'idea, perché come qualcuno ha detto, se non si combatte per le proprie idee, vuol dire che o le nostre idee non valevano niente oppure noi non valiamo niente. Senta, lei accennava all'università, all'Università degli Studi del Molise, è il cuore pulsante del Molise, ma anche e soprattutto della città di Campobasso, va ripreso un discorso che forse è stato un po' lasciato indietro? Io come professionista, proprio nel campo della mia professione, ho sempre collaborato con l'Università, ritengo comunque che il contatto con l'Accademia sia un contatto sempre fondamentale e vivifico, per cui bisogna assolutamente creare una rete anche con l'Università, per la formazione e l'informazione. Siamo alle battute finali della nostra chiacchierata, poi ovviamente ci sarà più avanti la possibilità di confrontarsi anche con gli altri suoi colleghi candidati. Chi teme di più tra Gravina, Battista e Libera Nome? Io rispetto tutti e diciamo personalmente apprezzo tutti i candidati che sono stati individuati, penso che ognuno farà il suo percorso e che a decidere chi possa entrare meglio nel cuore dei cittadini debbano essere i propri cittadini. Senta, mi dice cosa, come se l'aspetta questo mese che la separa? Molto frenetico. Si sta già abituando a questi ritmi? Sono abituata ad impegnarmi anche per la mia professione e non mi spaventa la fatica, non mi spaventa lo sforzo, ma deve essere costruttivo e credo che lo sarà. Senta, perché un campo a Borsano dovrebbe sceglierla? Un campo a Borsano dovrebbe scegliere e vedere in me il candidato sindaco perché io sono sicura di non deludere e di non tradire le sue aspettative. Allora, grazie a Maria Domenica D'Alessandro, candidato sindaco del centrodestra a Campobasso, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, veramente, grazie a tutti i telespettatori. In bocca al lupo. Noi ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo con Conta la Rovescia e con Paola Liberanome. Restiamo a Campobasso, buonasera e bentrovata. Paola Liberanome, io amo Campobasso. Buonasera a lei. Bentrovata. Bentrovato. Allora, domani mattina... Deposito. La lista. Sì, ci siamo. La lista, possiamo darlo per ufficiale. Quale lista la accompagnerà per questa nuova avventura? Di che lista si tratta? La nostra... Allora, intanto abbiamo già fatto un comunicato ieri, perché credo, mi pare, che siamo stati gli unici davvero a raccogliere firme per strada. Quindi abbiamo fatto qualcosa che non è più in uso, diciamo. Ci siamo i 5 Stelle, anche i 5 Stelle. Anche i 5 Stelle. Noi siamo stati due giorni in strada, in piazza Municipio. Abbiamo raccolto le firme. È stato facile, difficile? È stato anche questo per noi, anche questa è una sorpresa molto piacevole per noi, perché abbiamo raccolto circa 300 firme in un giorno e mezzo, non di più, con sicuramente la presenza dei firmatari, di molti dei firmatari del nostro manifesto, ma anche di tanta gente che davvero è venuta, ha voluto conoscerci. In curiosità, no? È venuta facendo domande su quello che avremmo, insomma, intenzione di fare per la città, su come è nato il nostro progetto. Quindi abbiamo avuto ancora una volta una calorosissima partecipazione e una inaspettata davvero presenza di cittadini interessati, interessati al progetto, interessati probabilmente nuovamente ad essere parte attiva dei processi decisionali, almeno per quello che riguarda appunto la scelta delle persone che si candidano a poter governare questa città. Ecco, io prima non l'ho precisato, Paola Liberanome, candidato sindaco di Campobasso. Facciamo un passo indietro. Quest'idea come nasce e perché nasce? Allora, questa idea noi lo diciamo spesso tra di noi. Nasce da una rubrica telefonica, ovvero amici che si sentono, amici che da tempo, sicuramente con la passione, molti con la passione per la politica, ma anche con la passione civica, molti di noi impegnati nell'associazionismo. Una rubrica telefonica degli amici che si incontrano e che dicono ci lamentiamo perché continuiamo a lamentarci, abbiamo le competenze e abbiamo anche l'età, oramai tale, per la quale è giusto ed è arrivato davvero il momento di rimboccarsi le mani. Cambiare le cose dall'interno. E cambiare le cose dall'interno, perché guardi, questo è un tema ed è anche qualcosa che ci siamo sentiti spesso dire, perché un'altra cosa che noi abbiamo fatto è incontrare chi sul territorio lavora. Quindi molte associazioni le abbiamo incontrate già, altre continueremo a sentirle e ad incontrarle, proprio per raccogliere tutte le istanze della città. Questo è un progetto che nasce con l'idea di inclusione, con l'idea di mettere insieme pezzi di una città, in maniera anche trasversale, senza patenti ideologiche, senza le classiche liturgie dei partiti, con la voglia però di fare, quindi nello spirito puro di quello che è il civismo. Nell'incontrare le associazioni, molti ci hanno detto appunto questo, noi facciamo, noi ci rimbocchiamo le maniche, noi lavoriamo sul territorio, però obiettivamente abbiamo bisogno di una rappresentanza e la rappresentanza potreste essere voi, qualcuno che si fa carico di mettere insieme le istanze di parti diverse della città, che però hanno bisogno di essere ascoltate, sentite e rappresentate, proprio per essere parte di quei processi decisionali di cui parlava lei e di essere parte dall'interno, altrimenti ci si limita a subire inevitabilmente decisioni prese altrove e probabilmente molto spesso anche con altre logiche purtroppo. Senta, lei, il Movimento, avete dialogato nel periodo precedente con i Cinque Stelle, con il Centrosinistra, con il Sindaco Battista, insomma c'è stato un processo prima di arrivare alla scelta, alla decisione di scendere in campo da sole. Ecco, proviamo adesso a bocce ferme a rivivere quei momenti, perché c'era la volontà di condividere l'idea con qualcuno per renderla magari ancora più forte, ancora più appetibile, però ciò non si è verificato poi, perché? Allora, come le dicevo prima, questo progetto incarna questo, cioè la necessità di includere, includere pezzi diversi. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di farlo dialogando con chiunque fosse disponibile ad accettare il dialogo evidentemente e fosse disponibile a condividere soprattutto quella base valoriale che noi abbiamo messo bene in chiaro con il nostro manifesto, che è il nostro primo atto pubblico, la prima uscita con la quale ci siamo dichiarati, se vuole anche appunto questa dichiarazione d'amore simbolica per la città. Quindi è un punto che noi abbiamo avuto sempre molto fermo, cioè dialogare con tutti, cercare il confronto e cercare l'accordo. Quello che non siamo riusciti invece a concretizzare, e lo abbiamo fatto, mi permetta di dire, anche questa cosa, sempre in maniera molto trasparente. Noi non abbiamo avuto incontri in stanze segrete. Ci sono stati incontri carbonari, diciamo. Esatto, nulla di carbonaro, no, assolutamente incontri sempre, dei quali abbiamo dato una comunicazione interna ed esterna molto trasparente. Interna per cui noi quando abbiamo dialogato con le altre forze, abbiamo dialogato sulla base di un mandato, che è il mandato che il nostro dirittivo ha ricevuto dalla propria assemblea brenaria, quindi nel pieno rispetto di una democrazia interna alla quale teniamo molto. e con una comunicazione molto trasparente all'esterno. Noi abbiamo sempre rilasciato comunicati stampa, nei quali, come dire, con i quali noi davamo notizia alle persone che ci seguivano, a chi aveva sottoscritto il manifesto, a chi, insomma, simpatizzava per il nostro progetto, di quello che stavamo facendo. Quindi è stato tutto fatto nella più estrema trasparenza. Detto questo, lei mi chiede giustamente perché adesso correte da soli? Perché noi corriamo da soli, glielo ribadisco, una lista, domani depositeremo la nostra lista, e la nostra è una lista assolutamente indipendente, con una mia candidatura indipendente. Perché probabilmente sia il centro-sinistra... Mancata la sintesi un po'? Esatto, cioè sia il centro-sinistra che il Movimento 5 Stelle hanno un'identità troppo forte per poter, diciamo, cedere pezzi della propria identità e indipendenza, insomma, in ragione di un progetto un po' più ampio che era quello che noi intendevamo fare. Anche al nostro interno noi abbiamo anime diverse e rispetto a queste anime ed impostazioni diverse abbiamo dovuto fare un lavoro di sintesi che chiaramente è stato anche quello un lavoro faticoso che ha comportato, insomma, molto dialogo, molta discussione e ovviamente anche molto lavoro, insomma. Senta, io penso che lei debba essere orgogliosa perché a Termoli è venuto meno D'Ambrosio che era espressione di liste civiche. A Campobasso, Campobasso nel futuro, Campobasso al centro, democrazia popolare, insomma, il civismo si è un po' perso in questo ultimo periodo con i partiti che sono tornati un po' in auge. Io amo Campobasso, invece, a retto. Sì, a retto. E quindi questo cosa significa? Questo significa che il progetto era un progetto ed è un progetto in cui noi crediamo fortemente. Ognuno di noi è fortemente motivato in quello che fa. Non a caso anche la data di ieri che abbiamo scelto come data per la chiusura della raccolta è un atto di resistenza. Noi intendiamo anche questo come una resistenza civica. L'impegno, l'impegno in prima persona è una data simbolica con la quale noi abbiamo liberato e consegnato quantomeno almeno le istanze di una parte della città che probabilmente sarebbero rimaste inascoltate o comunque non pienamente rappresentate. Senta, prima abbiamo parlato della lista. Chi c'è nella lista? Chi la affiancherà? Chi la supporterà? Guardi, noi abbiamo fatto ieri un comunicato stampa con il quale abbiamo indicato i nomi dei candidati. Abbiamo 22 candidati, 23, mi perdoni. 23 candidati, ognuno espressione ovviamente intanto portatore di competenze specifiche nel proprio settore perché anche di questo abbiamo molto discusso e parlato noi. Ci sono delle figure interessanti. Al di là di quello abbiamo sempre detto che volevamo rappresentare anche l'esigenza di riportare al centro del dibattito politico le idee i programmi e le idee e riportare anche il discorso sulla necessità di avere persone competenti alla guida soprattutto persone che si propongono per la guida di una città. Quindi abbiamo intanto figure professionali molto disparate abbiamo Adelchi Battista che è uno scrittore ma anche esminatore abbiamo dei medici, abbiamo degli imprenditori abbiamo un'ampia parte della società civile rappresentata nella nostra lista avevamo anche altre persone che volevano candidarsi ad entrare ma abbiamo fatto una scelta di contenere nel numero dei 23 perché ognuna di quelle persone è esattamente espressione di un pazzo della città ed è anche espressione di un percorso condiviso con noi noi non abbiamo preso candidati dell'ultima ora raccattati di qui o di lì non ci sono riempilista insomma davvero non abbiamo riempilista davvero senta, partiamo da Campobasso com'è e poi ci proiettiamo verso la Campobasso del futuro quella che lei ha in testa adesso Campobasso com'è? Lei è Campobassano io sono Campobassano ha vissuto a Campobasano è una professionista che lavora a Campobasso quindi ha anche dei ricordi di Campobasso come era qualche anno fa e di come è diventata adesso com'è Campobasso? Allora, questo l'abbiamo detto immediatamente noi abbiamo oggi una città che sotto il profilo del tessuto economico del tessuto culturale del tessuto sociale è estremamente degradata e abbiamo una città brutta credo di poterlo dire senza tema di smentita questa città non la vogliamo più C'è una bella donna che si veste male? Una bella donna trasandata offesa, umiliata una bella donna che ha bisogno di attenzioni per poter rifiorire Speriamo di poterle dedicare davvero tutte le attenzioni di cui necessita perché possa tornare ad essere la città bella che io ricordo che ho nei miei ricordi di infanzia e la città bella di cui poter essere tutti noi orgogliosi davvero orgogliosi Senta, mi sembra di capire che il giudizio sull'amministrazione di Battista sia negativo Allora, anche questa è una cosa che noi abbiamo È un numero critico Assolutamente critico tra l'altro ovviamente è un giudizio politico Certo Abbiamo dei rapporti ovviamente molto cordiali col sindaco Battista ma il giudizio politico è molto netto ed è profondamente critico questo ce lo siamo detti anche negli incontri vis-à-vis per cui non è che dico al sindaco in televisione qualcosa che non gli dico poi quando ci incontriamo di persona Sembra che non scopre nulla No, no, no il sindaco non scopre nulla abbiamo sempre avuto un confronto molto serrato sui temi e sulle situazioni con grande reciproco rispetto però insomma con critiche molto forti Lo abbiamo detto immediatamente sempre nel famoso manifesto io però non vorrei limitare la critica all'ultima amministrazione il problema è questo cioè il degrado che noi vediamo non può essere da lontano il frutto di 5 anni di cattiva gestione della cosa pubblica della res pubblica questo è chiaro evidente quindi è evidentemente qualcosa che sia stratificato nel tempo e che noi dobbiamo necessariamente invertire ora perché questa inversione di tendenza riusciamo a farla ora o altrimenti io ritengo o meglio insomma tutti noi riteniamo che poi non ci sarà più il tempo per farla siamo su un crinale molto delicato in un momento storico complesso e in una congiuntura economica difficilissima per cui davvero la nostra è una sfida perché buttarsi nel lagone politico in un momento come questo e con una formazione come la nostra è stato credo anche un atto di estremo coraggio ma davvero insomma che sottolinea davvero le buone intenzioni e la buona volontà di tutti noi che ci siamo rimboccati le maniche abbiamo dato senza pensare a ciò che potevamo ricevere in un'ottica e con un'idea di politica che è l'idea del servizio cioè rinunciare a una parte della propria vita privata della propria vita professionale metterla da canto un attimo perché avevamo davvero davanti come unica priorità la necessità di pensare al bene comune e nella fattispecie al bene di questa città ma chi si mette in gioco chi ci mette la faccia va sempre apprezzato ecco lei perché ha deciso di metterci la faccia poi come candidato sindaco sì ancora di più è in prima fila le dico che è un onore ed è un onere un onere per me molto molto insomma un'incompenza di cui sento la responsabilità perché in questo momento io rappresento non me stessa ma rappresento tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto e che hanno creduto in degli ideali molto alti con idee molto nobili e davvero lavorando ad esempio il programma fino a notte fonda con scambi a volte anche abbastanza come dire intensi con un confronto serrato anche a volte insomma complesso da gestire però ecco io le ripeto rappresento non me stessa ma rappresento il progetto e questo per me è un immenso onore e una responsabilità altrettanto diciamo cospicua che prendo sulle mie spalle ma della quale non posso che essere ovviamente felicissima senta dicevamo del programma dicevamo anche che durante la raccolta firme molti campobassati si sono fermati a parlare con voi qualcuno avrà anche insomma sottoscritto la candidatura il programma che cosa che cosa che cosa contiene qual è la cosa più importante di questo di questo programma io ho un'estrema difficoltà a sintetizzare in poche battute il programma perché davvero è molto complesso abbraccia ambiti molto vari disparati per cui sintetizzarlo è complicato in due battute le posso dire alcune cose intanto abbiamo rimesso al centro l'idea di cultura e di identità noi chi siamo cioè noi dobbiamo avere intanto un'idea della città che vogliamo tentare di portare avanti quindi l'idea di dover lavorare di nuovo sull'identità di questa città che sia smarrita perché noi non sappiamo più chi siamo evidentemente noi siamo un capoluogo di regione ma non credo che siamo rappresentati in questa maniera un po' anonimi un po' anonimi scialbi grigi allora intanto quindi è un problema culturale perché anche tutta una serie di studi antropologici psicologici ci dicono che esiste un'identità dell'individuo che si sviluppa in base all'ambiente in cui l'individuo viene posto questo influenza profondamente le persone che vivono nell'ambiente così come l'ambiente influenza profondamente le persone allora torniamo a mettere al centro la cultura ci sono tantissime cose che si possono fare però se intanto non ripartiamo da questo credo che poi sia difficile ragionare anche su ambiti più specifici le potrei parlare di urbanistica le potrei parlare di ecologia le potrei parlare di rifiuti le potrei parlare di mobilità di tantissime cose una cosa però voglio dire tutti questi interventi possono essere idee bellissime ma se non hanno alla base la possibilità di essere realizzate e quindi purtroppo dobbiamo tornare poi su un ambito più pratico e pragmatico cioè se non ci sono i fondi e le risorse tutto questo diventa soltanto un bel libro dei sogni allora servono anche le idee oltre alle ripetere spesso ecco si pone come limite la mancanza di risorse ma ci sono anche cose che si possono fare a costo zero le idee le abbiamo messa nel programma ma ci sono anche indicati i modi e le modalità con le quali realizzarle per questo abbiamo puntato tantissimo ad un'idea che è quella dell'assessorato all'Europa noi ci siamo dichiarati fortemente europeisti nel nostro manifesto l'assessorato all'Europa significa avere un dipartimento nel quale esistono figure competenti che lavorano solo ed esclusivamente sul reperimento dei finanziamenti europei le risorse sono lì allora io le dico una cosa l'ultima comunicazione della Commissione Europea ha diciamo stanziato per il programma 2021 2027 1135 miliardi di euro all'Italia andrà la quota parte di 43.4 miliardi di euro lei capisce che noi dobbiamo necessariamente è un mare di risorse che vanno necessariamente intercettate noi dobbiamo intercettare questi fondi perché con questi fondi si può praticamente finanziare qualunque campo dell'attività amministrativa di un ente pubblico quindi non diciamo che poi le risorse non ci sono spesso ci sono e non si spendono ci sono e non si spendono non si intercettano manca la progettualità mancano le competenze allora io non penso solo al fondo Arbact che finanzia esattamente gli interventi nelle società ma ci sono fondi per qualunque cosa ci sono i fondi invest abbiamo gli Horizon 2020 abbiamo l'Erasmus Plus abbiamo i Fesdre gli Interreg abbiamo i fondi che finanziano appunto i media quindi quello che si chiama il comparto della creatività insomma c'è davvero un mare di opportunità che noi in questo momento dobbiamo obbligatoriamente intercettare ed essere capaci di canalizzare in progetti che ovviamente siano progetti che siano realizzabili e che però portino la città finalmente verso il futuro facendolo uscire da questo stagno da queste acque stagnanti in cui noi oramai siamo da troppi troppi anni senta lei che Campobasso si immagina come la immagina tra dieci anni Campobasso magari dopo essere stata amministrata da lei io immagino io vorrei e lo vorrei per me per mio figlio per i figli di tutti noi per chi ha figli per chi in questa città dovrà continuare a vivere io immagino una città più bella una città più inclusiva una città in cui ognuno i diritti di ognuno possano essere tutelati in cui ognuno possa sentirsi riconosciuto una città più verde una città più sostenibile una città urbanisticamente anche più diciamo meglio organizzata una città che sia in grado di dare servizi a tutti e che non lascia indietro nessuno senta scuole è un argomento è un settore nel quale Battista ha dovuto lavorare parecchio e credo abbia pagato anche uno scotto è un settore nel quale bisogna lavorare molto perché lei accennava giustamente ai suoi figli bisogna dare la sicurezza alle nuove generazioni mio figlio ha la fortuna di essere in una scuola sicura quindi io come madre non ho diciamo la preoccupazione è chiaro che quello che vive mio figlio la serenità che io ho potuto godere come madre e mio figlio come studente deve essere chiaramente diciamo garantita ad ogni genitore e ad ogni studente questo però anche questo va inserito in un contesto più ampio quindi dobbiamo ripensare davvero a questa città vede questa città io ne parlavo peraltro durante un incontro molto interessante che abbiamo avuto con il WWF nel quale sono presenti molti architetti e con i quali abbiamo discusso di urbanistica loro dicevano e ragionavano su questo fatto in realtà mentre noi abbiamo assistito ad una contrazione della popolazione importante anzi preoccupante oserei dire da una parte una contrazione della popolazione dei residenti dall'altra ad un'espansione della città in termini anche di territorio consumato una città che si espande significa anche una città nella quale non si riesce a garantire servizi in tutte le aree scollegata scollegata quindi dobbiamo ripensare anche in questi termini e anche qui l'Europa torna utile dobbiamo pensare al recupero di quello che è già esistente non mangiare altro terreno non mangiare altro suolo non espanderci ulteriormente ma ripristinare giochi siano assolutamente la città e ripristinare partire da un censimento anche di tutto quello che c'è ripristinando appunto dove possibile ciò che già c'è e non consumando invece altro suolo soprattutto cercando di dare diciamo servizi intanto dare servizi a tutte le aree della città perché obiettivamente quello delle periferie per quanto Campobasso sia una città piccola quello delle periferie è un problema è un problema come è un problema guardi anche l'emergenza abitativa cioè noi abbiamo la situazione schizofrenica per la quale abbiamo una marea di immobili che sono stati costruiti e che sono rimasti invenduti o non locati e di contro un'emergenza abitativa per cui abbiamo persone sotto sfratto esecutivo e anche a queste persone una risposta la dovremmo dare quindi anche su quello abbiamo fatto un ragionamento molto importante con associazioni che sul territorio lavorano e che danno risposte e danno risposte anche a questa fascia della popolazione che è rimasta indietro anche per quello che riguarda veramente la rappresentanza politica senta ultima considerazione sulla sanità che non è di competenza certo del sindaco ma il sindaco può andare nella stanza dei bottoni sbattere i pugni sul tavolo e pretendere qualcosa per la città di Campobasso che idea ha il nuovo Campobasso? Allora, intanto guardi il sindaco ha una competenza sicuramente residuale sulle questioni sanitarie che sono di competenza regionale e ovviamente nazionale però si ricordi una cosa o meglio ricordiamolo tutti il sindaco è garante e tutela la salute dei propri cittadini e in quanto garante deve ha l'obbligo di andare a sbattere i pugni sui tavoli che siano quelli regionali o quelli nazionali per pretendere la tutela della salute dei propri cittadini e su questo insomma io credo che ci sia molto da fare grazie a Paola Liberanove di Omo Campobasso in bocca al lupo viva il lupo da animalista per questa lunga campagna elettorale che insomma partirà ufficialmente domani domani grazie per essere stata in nostra compagnia da Campobasso a Termoli con Francesco Roberti candidato sindaco del centro-destra tra pochissimo dopo una pausa pubblicitaria tra poco da Campobasso a Termoli buonasera e bentrovato a Francesco Roberti candidato sindaco del centro-destra buonasera grazie per aver accettato il nostro invito buonasera politica si matura e cominciamo anche diciamo a tirar fuori quelle capacità di diplomazia politica che quando sei meno giovane è difficile poter riuscire a così utilizzare oggi sono molto tranquillo e sereno perché la sintesi su di me è stata una sintesi sulla persona quindi gli amici che si sono avvicinati al di là dei partiti e quindi in qualche modo Termoli ha avuto un percorso diverso da Campobasso quindi noi erano mesi che si cercava di trovare una soluzione e credo che la soluzione più bella è stata quella di utilizzare uno strumento democratico nessuno boccia l'altro chi se la sente una terna di nomi benissimo abbiamo sottoscritto persino un documento che chiunque fosse scelto all'interno di quella terna gli altri si sarebbero candidati a supporto di quel candidato sindaco credo che questa sia una delle più belle scelte politiche che si possano fare decisamente senta lei vanta una lunga militanza in consiglio comunale quindi conosce bene la macchina amministrativa e le dinamiche che ci sono all'interno del consiglio è spaventato dalla possibilità di governare la città di passare dall'altra parte perché poi quando si è all'opposizione tra virgolette è più semplice più facile io non ho paura di affrontare queste difficoltà perché le conosco diciamo che oggi in generale decidere di fare il sindaco è una cosa veramente in qualche modo ci vuole coraggio al di là di chi possa fare il sindaco perché le questioni sono del tempo andate via via peggiorando sotto certi punti di vista innanzitutto ci sono meno risorse no? a parte quello ma non c'è più rispetto per le istituzioni anche quelle bagarre che si fanno in consiglio comunale lasciano intendere al cittadino che quel luogo il consiglio comunale non è un luogo dove si cerca di fare l'interesse dei cittadini della gente ma è semplicemente un'arena dove ci si scontra e si in qualche modo amplificano queste diatribe verbale anche attraverso i social e questo non depone bene per una democrazia io credo che sia una visione del consiglio comunale o degli amministratori del tutto negativo io credo invece che bisogna riacquistare la serenità e tornare a condividere a discutere a ragionare ma soprattutto a tornare ad essere comunità Termoli ha delle caratteristiche particolari che poi l'affronteremo anche quando è stato fatto il primo piano regolatore del 71 siccome c'è l'abitudine di chiamare i professoroni che vengono da fuori probabilmente questo professorone veniva da Roma e ha concepito Termoli come Roma municipio 1 2 3 e noi ce l'ha divisi in comprensori Difesa Grande Colle Macciuzzo San Pietro noi non ci sentiamo comunità ognuno in qualche modo vive all'interno del suo comprensorio e questo crea a Termoli quella manganza di affetto dello stesso cittadino verso la propria città quando io in questo consiglio comunale ho sostenuto il primo regolamento di decoro urbano che non se n'è mai parlato sono stato uno dei promotori il decoro urbano passa e attraverso come dire l'aiuto la condivisione di tutti i cittadini avere il marciapiede pulito perché non è passato lo spazzino nei paesi una volta c'era l'abitudine che la stessa signora si impegnava a tenerlo pulito questo quando succede? quando sei innamorato del tuo territorio perché quando andiamo al nord nel Trentino diciamo quanto è bello tutto pulito collaborano tutti ma per fare questo bisogna sentire quel diciamo quel 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 nodo in gola che ti fa sentire proprietario della tua terra quell'attaccamento che poi si è perso noi di solito noi che ci siamo siamo meno attaccati di chi ci vive fuori e torna e dici madonna quando è bella Termoli farei tanto per Termoli se noi non torniamo ad essere persone serene tranquille a volerci bene ad aiutarci l'uno con l'altro ma soprattutto a sentirci partecipare di un'amministrazione noi non possiamo far ritornare Termoli quella cittadina brillante che era prima non dimentichiamoci che Termoli faceva 8000 abitanti molti erano emigranti con l'arrivo di un consorso industriale è riuscita a catalizzare tante famiglie e esplosa tante famiglie che venivano dall'Interland a cercare fortuna perché prima nei paesini partiamoci chiaro si zappava la terra con la zappa non con i mezzi agricoli di oggi e quindi il lavoro dei campi era un lavoro duro che non ti dava niente venire a Termoli e portarsi tutta la famiglia e dirlo ad altri amici di venire perché c'era la possibilità ha creato Termoli una città di 32 mila abitanti le nuove generazioni sono andate tutte a Termoli loro hanno un attaccamento maggiore di quelle di prima ma questo che vuol dire? vuol dire che tutti insieme senza perdere la memoria storica di Termoli dobbiamo riappropriarci della nostra città senta io chiamo in studio l'operatore perché vorrei che in favore di camera lei facesse vedere il documento che ha in mano è il programma dicevo prima le dicevo a telecamera spente che mi intrigava molto lo slogan che lei ha scelto lo slogan è riprogettiamo Termoli allora la telecamera è quella se lo fa vedere in favore di camera così lo mandiamo in nome ecco perché ha scelto questo slogan riprogettiamo Termoli Termoli ha bisogno di essere rivista perché era lo diceva lei era un borgo di 8 mila persone adesso è una città a tutti gli effetti era un borgo marinaro adesso è una città che gode di un turismo notevole ma anche di un nucleo industriale che magari andrebbe rivisto ma funziona quindi va riprogettata questa città? Sì va riprogettata insieme perché questa parola insieme vuol dire oggi non è più il momento di scelte che si facevano come nel passato nel passato la politica ha fatto delle scelte per esempio un piano regolatore dove noi andiamo a vedere che vi è un comprensorio che dista da Termoli 6 km al confine Coppetacciato quella è stata una scelta scellerata perché portare i servizi lì portare tutta una serie di opere costa la collettività e non fa sentire la collettività partecipe di Termoli quindi riprogettiamola insieme non vuol dire abbattiamo tutto e ricostruiamo tutto riprogettiamo Termoli insieme su ogni settore turistico urbanistico lavori pubblici sociale cultura ricostruiamo Termoli tenendo conto che oggi siamo una popolazione di 32 mila abitanti senta io ho una sensazione lo dicevo anche a qualche suo competitor che frequento Viva Isernia frequento Campobasso vengo anche a Termoli ho una sensazione che Termoli abbia delle grandi potenzialità al contrario di Campobasso e Isernia condivide questa mia considerazione condivido e aggiungo un'altra cosa Termoli in qualche modo ha una serie di potenzialità che non sono riuscite mai a decollare parliamo per esempio del turismo noi siamo una stazione balneare che nel passato abbiamo ospitato tantissime persone di spessore culturale di valore di importanza oggi sembra che Termoli non abbia più quella attrattiva quindi insieme agli operatori bisogna riprogettarsi andare avanti capire perché Termoli non è più attrattiva mancano strutture ricettive benissimo vogliamo vedere come riuscire a realizzare strutture ricettive perché io capisco pure chi ha un albergo e dice io lavoro due mesi e poi gli altri dieci solo di Imu Tari e quant'altro io non riesco a tenere la struttura aperta allora bisogna insieme capire come essere di nuovo attrattivi sotto l'aspetto turistico vogliamo parlare del porto una cosa che mi stupisce noi abbiamo una marineria che in qualche modo negli anni è riuscita a far sopravvivere le generazioni Termolese perché l'unica economia che non avevamo nemmeno l'acqua per poter coltivare i campi quindi di che si parla è possibile che non siamo riusciti in qualche modo a far sviluppare questa marineria e tirare fuori anche un brand faccio una battuta alla Livornese loro hanno il caciucco è possibile che noi non possiamo andare a costruire un'aziendina che in qualche modo al nucleo industriale potesse trasformare i nostri prodotti ittici lo fanno in Sicilia lo fanno in Sardegna noi non siamo stati capaci perché perché Termoli per l'amore di Dio è pur vero che bisogna riconoscere i politici del passato hanno fatto tanto ma è pur vero che i cittadini termolesi si sono rispetto ai nuovi giovani che sono più intraprendenti sono un po' cullati ecco un po' cullati io dico non è la politica che si deve cioè non è il cittadino che si deve attaccare alla politica è la politica che deve seguire il cittadino e allora te anche nell'idea io vengo dal mondo delle partite IVA prima di fare di essere un insegnante di elettronica all'industriale laureato ho aperto il mio studio avere una partita IVA comporta tutta una serie di difficoltà e sappiamo che significa oggi avere una partita IVA ma quello è stato un gesto di intraprendenza che i ragazzi di oggi vogliono e hanno coraggio di farlo quindi la politica si deve mettere al servizio per dare a loro tutte queste aspettative e rendere facili queste aspettative invece prima si aveva l'effetto contrario se la politica dava degli input degli input allora ecco e noi non li abbiamo mai stimolati adesso è un esatto contrario e a differenza di Campobasso e Isernia infatti noi non abbiamo grandi imprenditori di spessore a termine nonostante si siano fatte tante opere pubbliche un imprenditore di spessore che a livello nazionale come imprenditore abbia fatto pondi strade galleria noi non ne abbiamo questo perché perché ci siamo un po' cullati per il fatto che avevamo personaggi di spessore politico e in qualche modo sono riusciti a fare tanto assolutamente senta il tunnel se ne è discusso tantissimo innanzitutto mi dice qual è la sua posizione perché lei è stato molto bravo anche in questo è stato molto pacato anche nell'esporre la sua posizione del tunnel serve o non serve alla città di Termoli che comunque secondo me urbanisticamente va ridisegnata certo allora io definisco il tunnel un affare del 25 aprile tutto di sinistra se la sono suonata se la sono cantata e si sono anche scontrati tra di loro facendo persino divisioni di centro-sinistra e sinistra cioè qua giochiamoci poco sulle parole diciamo che quello è un altro di quei pallini che in qualche modo qualcuno che non è del mestiere si sveglia una mattina e pensa di lasciare una cattedrale c'è un po' il segno il segno le cose più pericolose sono le opere e ve lo dice un tecnico perché le opere danno qualcosa e tolgono qualcosa allora bisogna sempre fare il conto del saldo conviene o non conviene serve o non serve perché avere fretta di fare qualcosa attenzione non sempre può portare benessere durante tutto questo periodo dell'amministrazione sbrocca io ho semplicemente osservato cosa volevano i cittadini l'unico atto che io ho votato era la scelta di un referendum ma questo perché ma non perché l'amministrazione non fosse capace di decidere così come ha fatto ma perché quando qualcosa diventa in qualche modo un momento di divisione allora c'è solo uno strumento coinvolgere tutti e sentire tutti sono d'accordo e quindi questo è stato la mia posizione della posizione che abbiamo messo anche all'interno del programma però attenzione se voi andate a vedere il piano regolatore del 71 anche questo professor nel 71 due linee dicendo si può fare un tunnel ora la domanda è ma questo tunnel può servire funzionalmente a termoli se non c'è un piano di mobilità perché chi abita per il secondo corso comunque dovrà andare a casa comunque dovrà arrivare con una busta della spesa e scaricarla sotto casa quindi la macchina che strada farà quella che fa oggi e allora tra averlo e non averlo qual è il vantaggio o lo svantaggio o forse può essere utile per un'espansione del porto perché il porto avendo una viabilità migliore possa in qualche modo essere volano di sviluppo e anche di lavoro e allora quando si fanno certe opere o vengono fatte all'interno di una concertazione più ampia e soprattutto con tempi certi o si rischia di dire così come si è sviluppata nell'ultimo ventennio termine di fare a macchia di leopardo interventi e poi bisogna ricuscire ricostruire ricollegarle riqualificare e diventa sempre un rincorrere su problematiche che poi in qualche modo i cittadini dovranno subire quindi anche questo accanimento tra le fazioni di sinistra è stato un loro limite nel dimostrare che non hanno capacità di dialogo loro quando pubblicizzano qualcosa sono bravi a pubblicizzarlo poi quando si devono mettere intorno a un tavolo e ognuno di loro fare un passo indietro di umiltà e dire ok qual è il meglio e il bene per Termoli questo facciamo una scelta condivisa certo tu non puoi pretendere che le tue idee siano recepite al 100% ma già se ti danno la possibilità di un 50% è democrazia quindi questa cosa sarà una cosa che per fortuna oggi ancora non c'è questo rischio ho qualche dubbio sulla procedura del 327 che ti consente di fare gli espropri per dare poi ai privati la possibilità di fare alloggi privati ma sono curioso di vedere che cosa dirà il Tar io sono curioso due mesi di tempo vuol dire che hanno parecchio da scrivere avranno parecchio da dire altrimenti si può dire sì o no ma aggiungo è un affare tutto di sinistra che ha convolto persino la sinistra a livello nazionale ed è questa la grande capacità della sinistra vincere le elezioni e poi dividersi si augura di perdere vincerle e poi lei si augura di perderle ovviamente perdere la sinistra in tento senta il nucleo industriale secondo lei Termoli ha una vocazione solo turistica oppure deve anche continuare a potenziare il nucleo industriale dunque ha una doppia vocazione io sono molto amareggiato di quello che c'è attualmente nel nucleo industriale e quello che nell'ultimo ventennio è avvenuto all'interno del nucleo industriale già lo sviluppo di quel nucleo industriale per i tempi passati poteva andare bene tenete conto che per andare al nucleo industriale mi sembra quasi un progetto comprato a Londra dove si svingola a sinistra venendo dalla stradale S87 gli svingolano e le hanno messi a sinistra le famose invenzioni si fa dice ma c'era una ferrovia allora riprogettate la viabilità in modo tale da fare lo svingolo a destra ma passiamoci sopra è un po' come il progetto dell'ospedale di Larino sulle palafitte dove l'hanno comprato quel progetto se l'hanno pagato però ho i miei dubbi sono errori del passato ingegnere guardiamo il futuro quindi il nucleo industriale per essere utile smantellarlo dal mio punto di vista come consiglio di amministrazione fatta dai sindaci perché in 20 anni che si sono succeduti i sindaci dentro del consorzio industriale non hanno fatto atterrare nemmeno una fabbrica di baccalà lì bisogna fare un nucleo industriale dove chi va in qualche modo a operare sia un manager cioè sia in grado di catalizzare l'attenzione su quel territorio bisogna girare non è che una fabbrica si mette su internet e dice ma mi piace Termoli perché il clima è buono e vado a creare la mia fabbrica lì poi in un periodo come questo probabilmente dovevano prendere maggiore attenzione per gli imprenditori dentro un consiglio di amministrazione ci vuole l'imprenditore quello che ha la partita IVA perché sa quali sono le difficoltà non il sindaco il sindaco può essere anche una figura di sintesi ma è quello che deve mettere tutti d'accordo che deve legare un po' tutte le varie problematiche e poi non può essere che un consorzio industriale alla fine in questa maniera che secondo me ha tante potenzialità partiamo sempre dalla preoccupazione delle fabbriche chimiche lei sa bene che le fabbriche chimiche chi ha pensato di farle venire disse se andava in crisi il polo meccanico avremmo avuto un'alternativa bene anche lì mi ripeto se avessero fatto il saldo tra occupazione rischio malattie quant'altro probabilmente qualcuno avrebbe pensato bene di fare altre scelte tipo l'agroalimentare ora ci sono e io parto sempre dall'idea che quando queste fabbriche chiedono di rivisitare gli impianti e anche di fare qualche impiantamento vanno tutte a vantaggio della popolazione perché con le nuove normative loro hanno l'obbligo di migliorare i propri impianti è come quando siamo partiti con le macchine che inguinavano oggi abbiamo le macchine con le marmitte catalite quindi qualche volta bisogna anche dire sì ma non perché bisogna dire sì ma perché sicuramente c'è un miglioramento assolutamente senta il depuratore va tolto da lì dove è assolutamente e cosa ne pensate allora il discorso del depuratore sappiamo già che anche quella è stata una scelta che allora infelice quella di metterlo al porto era in gravità si dice l'unico punto che finiva in gravità era lì hanno pensato di metterlo lì c'era tutto un progetto faraonico che prevedeva passeggiate sopra e quant'altro come al solito finiscono i soldi e si fanno le opere a metà bisogna delocalizzarlo ci sono le possibilità per farlo sicuramente i cittadini di Termoli dovranno un po' soffrire perché saranno opere che creeranno un po' di difficoltà ma quello è un intervento risolutivo perché non ci sono altre alternative non si può più rimandare bisogna intervenire diciamo che mettendo in funzione il nuovo più che mettendo in funzione il nuovo cercando di collettare il nuovo che di per sé già dà alcune problematiche deviando alcuni flussi verso quello del nucleo industriale si va a alleggerire quello esistente ma questo in attesa di fare una progettazione seria e concreta per delocalizzare quel depuratore ma senza aspettare l'idea che il porto si dovrà sviluppare perché io ho 50 anni e me ne resta di vita di meno di quello che già ho vissuto quindi non lo vedrò questo porto per come dire per la via della seta speriamo oggi bisogna intervenire in modo rapido per consentire quando meno di salvare quello che è salvabile senta la sanità Termoli ha bisogno di una sanità diversa di un Santimodio più forte più potente più completo io credo che Termoli abbia bisogno di un Santimodio che faccia un salto di qualità se è possibile trovare un diciamo una compartecipazione tra Santimodio e qualche diciamo cliniche o ospedali specialistici e lavorare insieme dove c'è lo scambio culturale tra i medici che arrivano quelli che ci sono turnover diventa attrattivo i nostri operatori sono operatori che ormai ci stanno lasciando perché vanno in pensione probabilmente non sono riusciti nemmeno a tramandare perché non avevano possibilità a chi in qualche modo è stato affiancato le loro esperienze quindi oggi ci vuole qualcosa di specialistico affiancato al Santimodio che faccia diventare il Santimodio un ospedale di eccellenza e questo è un progetto che secondo me il sindaco di Termoli in qualche modo ne deve tener conto benissimo siamo in conclusione ingegnere grazie per essere stato in nostra compagnia mi dice soltanto la prima cosa che farà qualora i cittadini dovessero sceglierla come sindaco di Termoli la prima cosa che farà allora la prima cosa che farò è non posso pensare che Termoli sia una città turistica che tu scendi alla stazione di Termoli e trovi termolesi che dormono dentro la stazione per cui è impossibile pensare di tenere alloggi tipo l'ex caserma libera e lasciare loro a dormire fuori bene grazie a Francesco Roberti per essere stato in nostra compagnia candidato sindaco del centro-destra a Termoli tra pochissimo lo leggete anche in sovrimpressione Marcella Stumbo buonasera continuiamo con le amministrative di Termoli buonasera e bentrovata a Marcella Stumbo candidata di Bene Comune Rete della Sinistra sì allora questa idea innanzitutto professoressa come nasce? allora intanto grazie per l'occasione di illustrare un po' le nostre posizioni nasce sicuramente da lontano nel senso che i movimenti civici di Termoli sono da anni presenti sul territorio e la storia delle varie lotte ha visto insomma creare poi delle aggregazioni la partecipazione dei cittadini sicuramente l'ultima spinta è stata data dagli eventi degli ultimi anni dalla lotta contro il tunnel e da quello che questa lotta ci ha consentito cioè un approfondimento anche di come veniva condotta l'amministrazione della città e di constatare tanti progetti che secondo noi andavano contro secondo noi e secondo tanti cittadini andavano contro l'interesse del bene comune per cui abbiamo alla fine deciso con molte insomma dopo molti tentennamenti perché non sono decisioni facili di provare a partecipare direttamente quindi trasferire nelle istituzioni quei saperi che si sono venuti comunque costruendo in per quanto mi riguarda da lontano 95 con il coordinamento ambiente e salute e il desiderio di avere informazioni sulle industrie chimiche quindi diciamo che come storia personale la mia la conclusione di un lungo percorso no? sicuramente il desiderio ecco di provare a perché si dibatteva spesso dal di fuori rimaniamo ininfluenti proviamo a cambiare le cose da dentro da dentro anche se a me la dimensione del movimentismo civico e dello stare proprio dal basso con i cittadini è una cosa che comunque continua a piacere molto senta lei ha battuto tutti sul tempo non stamattina è stata la prima a consigliare la lista credo che abbiamo un primato nazionale perché alle 8 e 29 credo appena il comune stavano già lì fuori dalle 8 e un quarto i nostri presentatori di lista devo dire che abbiamo fatto una lotta contro il tempo per la raccolta firme perché insomma alla fine forse ci dovevamo muovere un po' prima però devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta dai cittadini e quindi abbiamo avuto un aiuto enorme da Paolo Marinucci il candidato sindaco di 5 anni fa che di Libera Termoli di Libera Termoli una sorta di passaggio di consedi di passaggio del testimone tra lei e Paolo ci ha tenuto proprio a fare lui vuole rimanere fuori stavolta e ha proprio fatto quello che si chiama un endorsement nei miei confronti dicendo votare Marcella significa continuare il lavoro che ho fatto io e lui essendo consigliere è stata la nostra garanzia di un'autenticazione molto accurata che riteniamo dovrebbe metterci al sicuro da problemi diciamo di divaglio delle candidature sicuramente non c'è nessun problema di tipo legale perché posso assicurare che ogni firma è stata posta in presenza del candidato dell'autenticatore e c'eravamo appunto c'ero anch'io quindi almeno questo problema che a volte si è presentato in passato non lo avremo non lo avrete sicuramente senta che lista è la sua? allora la mia è una lista garantisce la parità di genere no? sì c'è un'assoluta parità di genere dopo un inizio un po' per trovare appunto le donne per la legge che richiede minimo un terzo siamo arrivati a 12 e 12 è una lista direi molto semplice cioè nel senso che è stata una lista costruita spontaneamente cioè ci sono delle persone che come me lavorano da anni nelle associazioni e sul territorio ma ci sono anche tante persone che si sono avvicinate perché si sono riconosciute in quell'esigenza di sinistra vera che ritengo rappresentiamo soltanto noi non sembri un atto di presunzione ma la sinistra quella che sta dalla parte degli ultimi e che non ha paura di usare le sue parole d'ordine cioè quelle della giustizia sociale e dell'attenzione agli ultimi io credo che siamo solamente noi e sicuramente siamo gli unici che portano in questa campagna a partire dal nome il desiderio di riappropriarci dei beni comuni a partire dall'acqua per scendere poi a tutti gli altri servizi che sono stati privatizzati e nell'ambito di una concezione di bene comune che è quella che ci dava il grande rodotà cioè quel patrimonio materiale e immateriale che è alla radice del nostro essere cittadini e del nostro vivere bene cioè noi ci siamo resi conto e con noi le persone che si sono candidate che solo occupandoci dei nostri beni comuni possiamo garantirci una qualità di vita che sia alta non in senso materiale ma in senso morale di serenità di sentirsi rappresentati di sentirsi partecipi quindi questo è uno delle nostre parole d'ordine l'altra è sicuramente la partecipazione e la trasparenza cioè il contrario di quello che c'è stato fino adesso a Termoli un elemento caratterizzante è stato quello motivazionale serve gente che ha voglia di fare cittadini che hanno voglia di impegnarsi sì sicuramente cittadini ecco cioè la concezione del governo della città come un'amministrazione condivisa non un fortino in cui ci si rinserra perché ci hanno votati e facciamo quello che vogliamo questo è l'opposto della nostra della nostra idea di fare politica a qualunque livello io credo che valga la pena impegnarsi se si porta appunto con sé questo questo senso di responsabilità cioè il cittadino ti può dare fiducia non è una cambiale in bianco per cinque anni tant'è vero che noi nel programma che stiamo abbiamo presentato nelle sue linee guida e che poi espliciteremo negli incontri con i cittadini abbiamo messo proprio la verifica di quello che stiamo facendo dopo un periodo massimo di due anni un po' come non le elezioni di mid term americane ma sicuramente un incontro continuo con i cittadini questo sì perché altrimenti diventa veramente un chiudere la porta e dire adesso faccio io e tu stai lì perché ci rivediamo tra cinque anni questa è una cosa che personalmente mi ha sempre mandato in bestia non è corretto non è onesto perché di promesse elettorali se ne fanno tante come sappiamo e il nostro programma non è un elenco di promesse sicuramente è semplicemente una serie di pietre miliari faticose lo sappiamo perfettamente che richiederebbero non una ma probabilmente dieci legislature per essere messe trasferite nella realtà ma che sicuramente devono dire ai cittadini chi siamo e qual è l'idea di Termoli nella quale ci riconosciamo perché io sono convinta e con me i candidati che si sono presentati appunto con me per il deposito della lista che se non si condivide una visione della città che non può essere una visione puramente economica di costruzioni di consumo del suolo di di mercificazione di tutto quello che dovrebbe essere interesse pubblico non ci può essere altro che non lo so un'esperienza di potere semplicemente le esperienze di potere non ci interessano Termoli va preservata in qualche maniera Termoli va preservata e la storia del tunnel ce l'ha dimostrato però professoressa io le chiedo Termoli nasce come un borgo marinaro poi gli anni cresce evolve adesso è a tutti gli effetti una città un centro importante quindi avrebbe bisogno di essere ripensata e d'accordo Termoli è una sicuramente è una città molto complessa per essere una città di 30.000 abitanti è una realtà che sicuramente nel Molise non si ritrova uguale perché proprio quel cambiamento violento che c'è stato dai tempi della Fiat in poi e dai tempi della crescita del nucleo industriale hanno reso di difficile lettura sia quello che è il magma sociale che si ritrova a Termoli sia quella che deve essere la sua strada ora si parla tanto e forse troppo di turismo e di crescita sostenibile nel senso che sembrano diventate un po' delle parole vuote però quello che è certo è che Termoli ha molte potenzialità da questo punto di vista e ha vissuto fino adesso un turismo di un mese e mezzo un turismo molto di livello neanche molto alto e che non lascia molto alla città ha vissuto contemporaneamente sta vivendo la crisi del suo tessuto industriale noi siamo consapevoli perché ci sono anche i lavoratori della Fiat nella nostra lista che la situazione dentro la Fiat è difficile lo sappiamo tutti con i periodi di cassa integrazione a rotazione e nello stesso tempo orari pazzeschi di lavoro ci dicevano quindi di carico su chi lavora mentre altri stanno a casa sappiamo che comunque anche la gestione del nucleo è adesso un po' vaga cioè paradossalmente si sa meno adesso di quello che succede lì di quando noi nel 95 cominciamo a dire insomma questa Repubblica indipendente vediamo di capire cosa c'è dentro ma c'era allora però una dirigenza forte c'era un maggiore controllo adesso abbiamo episodi preoccupanti come quello della ex flexis di cui sul momento mi sfugge il nome di poco tempo fa nel quale sono stati i sindacati stessi a chiamare televisioni prefetto sindaci dicendo qui c'è una situazione di rischio perché manca il responsabile della sicurezza e anche lì un'amministrazione deve farsi carico di questo nessuno ha risposto a quell'appello a Termoli non a livello ufficiale e per esperienza personale le dico che un appello del genere fatto dai sindacati con cui noi ci siamo confrontati duramente in quegli anni vuol dire che la situazione lì è grave perché quando incontravi i sindacati allora l'atteggiamento era qui va tutto bene e non dovete mettere a rischio i posti di lavoro quando noi cittadini cercavamo di capire un po' quindi il fatto che l'allarme non sia partito dalle associazioni ma sia partito dai sindacati ecco questo vuol dire che il nucleo industriale deve essere un po' un sorvegliato speciale nel senso che va sicuramente rivitalizzato ma io come presidente della fondazione Milani so che quando con il dottor Comba dell'istituto superiore di sanità nel 2010 pubblicammo i risultati nell'unica indagine epidemiologica visto che il registro tumori ancora arriva sta procedendo però ecco anche quello i cittadini non sanno nulla nelle conclusioni di quell'indagine c'era scritto che comunque quella zona andava attentamente monitorata perché le fonti di inquinamento erano molteplici quindi anche se non era stata riscontrata una situazione neanche lontanamente paragonabile agli altri grandi centri industriali Taranto o cose del genere però questo non vuol dire che tu non debba controllare non sappiamo neanche se le centraline continuano ancora a funzionare quindi questo è uno dei problemi l'altro problema grosso secondo noi che ha Termoli è tutto legato alla gestione dei beni comuni cioè il famoso depuratore il mare che sicuramente non è in buone condizioni ma va torto da lì secondo lei assolutamente noi nel programma abbiamo proposto che venga spostato al nucleo industriale il nucleo industriale ha la possibilità di fornire utilizzo per la depurazione di una città di 200.000 abitanti è una cosa che è stata già proposta anni fa e che non ebbe parecchi anni fa ci dicevano e che non ha avuto seguito ma che invece probabilmente ora io non le so dire dovrei vedere bene le carte dal punto di vista tecnico ma ci parlavano di spostamento delle condotte se questa è la situazione allontanarlo dalla città ci sembra assolutamente c'è già l'idea di mettere un depuratore al porto io non so di chi sia stata ma ovviamente non è geniale ma anche quello del Sinarca che peraltro non arriva neanche insieme neanche se funzionasse bene quello del porto ora so che sono stati stanziati anche dei fondi in una riunione di giunta recente per un nuovo depuratore fondi in parte regionali non si dice però assolutamente dove andrà messo né in che modo sarà poi strutturato e sostituito ora il discorso che noi facciamo per quanto riguarda i servizi è che Termoli che ha sempre rivendicato ma mai esercitato un ruolo trainante rispetto all'entroterra e anzi ci sono stati vari scontri campanilistici sciocchi come tutti gli scontri campanilistici ma umani con i paesi del Basso Molise potrebbe essere capofila di proposte di gestione consorziata dell'acqua dei rifiuti dato che la famosa legge che noi abbiamo assolutamente bocciato in toto dell'EGAM non è comunque ancora funzionante per quanto riguarda la gestione dell'acqua che dovrebbe rimanere assolutamente poiché è riconosciuta bene dell'umanità di totale proprietà pubblica si potrebbe ecco dato che i costi sono alti e le difficoltà tecniche notevoli per un comune singolo creare una rete un consorcio assolutamente senta il tunnel è un argomento sicuro il tunnel ecco lei è stata sempre molto in prima linea sempre molto critica nei confronti dell'amministrazione non vedo come si possa essere altrimenti ecco per Sbrocca è un guardare al futuro perché è un'opera importante di urbanizzazione per lei che cosa rappresenta il tunnel? un oltraggio contro la città di Termoli la distruzione della memoria storica la distruzione del paesaggio e non dimentichiamoci che ci sono delle parole durissime nella relazione della sovrintendenza che sono in questo senso che sono state avallate dal ministro dei beni culturali e noi ancora ci domandiamo pur senza poter fare ad altavoce dell'ipotesi come sia successo mai nella storia della Repubblica che un consiglio dei ministri abbia sconfessato una posizione nettissima del ministro che dopo aver eletto questa relazione ha bocciato l'opera immediatamente allora questo però al di là adesso delle differenze di vedute quello che noi abbiamo sempre rimproverato a questa amministrazione è l'aver negato il referendum non c'è stata democrazia assolutamente è stata una ferita gravissima per la democrazia a Termoli dovevano scegliere Termolesi ma lo hanno detto anche alcuni esponenti della maggioranza e io sono del parere che se fosse stato fatto all'inizio quando ancora non si sapevano tutte le brutture di questo progetto sarebbe stato anche approvato e comunque rimaneva un parere non vincolante quindi questa ostinazione ha sicuramente molto irritato tanti Termolesi quelli che comunque magari non si schieravano in prima linea ma che poi parlando negli incontri delle cose erano molto netti perché tanto non se ne capisce il motivo e poi se andiamo a vedere questa grande opera di urbanizzazione consiste nel far costruire a un privato tanti begli appartamenti tanti bei negozi un centro commerciale e convogliare sul lungomare tutto il traffico e l'inquinamento di quel famoso mese e mezzo di turismo che a Termoli io non so se a lei è capitato il periodo tra la fine di luglio e il 20 di agosto a Termoli è semplicemente un delirio e lo mettiamo tutto lì per giunta a doppio senso e a doppio senso anche via Mario Milano cioè noi abbiamo degli esperti di piani del traffico architetti che hanno l'ultimo che hanno avuto approvati a Pescara città forse un poco più complicata anche di noi che ci hanno detto qui di mobilità sostenibile non c'è nulla la mobilità sostenibile è altro e comunque torniamo al primo punto cioè la partecipazione e la condivisione cioè quello che impatta in maniera tanto forte sulla vita dei cittadini non può essere deciso da chi magari sta lì avendo insomma io non voglio infierire ma i numeri del ballottaggio sono quello che sono il ballottaggio è un'istituzione antidemocratica che facilita solo la corruzione per la mia opinione personale ma poi i numeri del ballottaggio quando tu hai una stensione così alta come c'è stata a Termoli io qualche domandina me la porrei nel rispetto della democrazia ovviamente assolutamente però quando uno riflette poi sulle modalità può anche dire insomma forse potevo anche avere una partecipazione maggiore e potevo farmi forte di questo senta siamo in direttura d'arrivo partiamo torniamo al programma mi dica un obiettivo che lei come sindaco vorrebbe assolutamente centrale qualora i termolesi la scegliessero sicuramente l'urbanistica al di là della partecipazione che ha la base di tutto al di là dell'attenzione ossessiva alla salute e all'ambiente che costituiscono la mia storia e sui quali punti credo di avere ormai anche una certa competenza l'urbanistica è quella che non solo in questi ultimi cinque anni a Termoli è stata un po' il cavallo di battaglia di tutte le amministrazioni ma intesa soltanto come consumo di suolo l'obiettivo che noi ci poniamo è proprio uno il consumo di suolo zero il recupero dell'esistente la messa in sicurezza dal punto di vista sismico di tutti gli edifici e dal punto di vista anche del problema idrogeologico che in Molise è drammatico il recupero di tutti i beni pubblici a cominciare dalle due scuole alienate che sono una cosa che grida vendetta per me che sono un insegnante perché noi abbiamo due scuole in vendita e soprattutto una mappatura di tutti i beni edificabili ecco quelle due scuole lei le rimetterebbe in sesto assolutamente assolutamente si possono fare tante cose con gli edifici pubblici abbiamo una per questo dico una mappatura attenta in base alle necessità l'emergenza sfrattice anche a Termoli non solo a Campobasso abbiamo problemi di senza tetto non sono i numeri di Roma e di Milano ma questo non vuol dire che noi dobbiamo fare abbiamo problemi comunque di immigrati perché noi ci auguriamo che arrivino c'è la posizione di dire non devono entrare ovviamente se noi siamo la sinistra questa non è la nostra posizione chiunque venga in pace e in onestà a Termoli deve trovare accoglienza è benvenuto al di là del colore della pelle nell'ambito chiaramente di un progetto non vieni e ti metto lì in parcheggio e poi faccio finta che non ci sei come è stato in tutte le amministrazioni precedenti e quindi un piano regolatore cittadino noi abbiamo avuto un convegno interessantissimo con il professor Berghini che è stato anche per un brevissimo periodo assessore a Roma prima di scapparsene dal governo della signora Raggi e lui diceva proprio questo il degrado della città la mercificazione della città sia avuta da quando non si pone più attenzione ai piani regolatori e noi da tempo chiediamo anche come il movimento No Tunnel una legge urbanistica regionale altra cosa che manca se mi permette un'ultima cosa dato che è notizia di oggi quella che è un'emergenza che qualunque sindaco dovrebbe affrontare è il problema dell'ospedale cioè il problema della salute perché sarebbe stata la domanda successiva il ruolo del Santimotio il Santimotio è centrale centrale non solo per il Molissima per l'Alta Puglia e per il Basso Abruzzo è centrale per la vita di un bacino di 150.000 persone io sentivo stamattina che toglieranno anche Torino che era uno dei fiori all'occhiello perché con un primario in gamba è possibile che nessuno degli ultimi diciamo almeno tre sindaci non abbiano sentito il bisogno di salire alla regione seguiti dai cittadini e pestare veramente i pugni sul tavolo per dire quando come adesso non c'è più diritto alla salute perché questo è l'accesso alle cure perché il nostro pronto soccorso è andato in tilt il dottor Rocchia sono due o tre volte che va in televisione a dirlo allora siamo fuori dalla Costituzione e come sindaco io ho il dovere di venire a chiedervi anche in malo modo cosa avete intenzione di fare è chiaro non decide il sindaco però quando il sindaco consulta i cittadini e dice venite con me andiamo a parlare con questi signori perché io sono il garante della vostra salute per legge io credo che qualcosa poi alla fine cambi perché di fronte a emergenze del genere come sono state descritte almeno dal Tg nazionale locale ma nazionale significa che c'è una situazione tale per cui il governo deve intervenire la regione non può dire abbiamo il commissario qui io devo impedire che la gente vada lì e muoia ed è successo quest'estate il commissario è a Palazzo Vitale a Campobasso e riceve chiunque insomma si può andare dal commissario sicuramente lo faremo però lei capisce che andarci come associazione come sindaco insomma come io credo che sia il dovere di chiunque andrà ad amministrare Termoli così come ripeto affrontare pensare al ruolo del Santimodio e assolutamente rivendicare il ruolo principale così come chiedere e ottenere un'informazione costante sul registro tumori noi avevamo ottenuto faticosamente dal presidente di Laura Frattura la possibilità di partecipare a riunioni periodiche che poi sono diventate sempre più periodiche con il presidente Toma non siamo stati neanche ricevuti e noi come fondazione Milani eravamo garanti insieme a Libera dell'informazione allora ecco un sindaco deve farsi carico anche di questo perché i decessi per tumori continuano saranno anche nella norma ma avremo diritto a sapere quanti sono e quali sono io credo che queste emergenze insieme ovviamente al lavoro ma quella è l'emergenza di tutta l'Italia né si può risolvere però un sindaco può fare non può fare tantissimo con incontri con i cittadini andando nei quartieri organizzando consulte organizzando il bilancio partecipato organizzando la consulta per i giovani perché il fenomeno della droga è drammatico io dico che parlare ed esserci è il primo dovere di un buon amministratore e onestamente a cominciare da noi che quando andammo a parlare per l'acqua trovammo le porte sbarrate questo non c'è stato senta mi pare di capire insomma che il suo giudizio sull'amministrazione sbrocca sia è assolutamente totalmente negativo lo dico senza timore di smentite il centro-sinistra si presenta diviso alle urne voi rappresentate la sinistra poi lo siete del centro-sinistra punti di contatto non ce ne sono assolutamente con questo centro-sinistra no non c'è stata proprio la possibilità di dialogare è chiaro che da un punto di vista ideologico il nostro nemico è la destra che sembra molto forte quindi è chiaro che quelle sono le idee che noi a priori rifiutiamo però paradossalmente tutti gli ultimi colpi che sono stati inferti alla città dipende certo dai punti di vista sono venuti da un governo cosiddetto di sinistra senta ultima considerazione lei è a capo di una lista civica per qualcuno il civismo è al capolinea e starebbero ritornando con premotenza i partiti è d'accordo con questa visione? se per partiti intendiamo quelli che ora stanno governando no non li ritengo partiti i partiti sono un'altra cosa i partiti sono la democrazia cristiana anche se non è mai stato il mio partito era il partito comunista erano i partiti della cultura dell'umiltà di imparare delle scuole di partito che non erano assolutamente cose negative ho un'età per ricordarmi anche se non l'ho vissuto direttamente stanno ritornando delle aggregazioni sull'onda di un populismo che a noi non piace e non sono d'accordo che il civismo stia scomparendo perché io avendo partecipato a tutte le lotte che si sono fatte ma in Italia non solo qui per esempio quella contro le trivelle contro i gasdotti adesso è l'ultima quella dell'acqua io ho visto che c'è invece molta preparazione molto studio molto desiderio di costruire qualcosa veramente in spirito di servizio rimettendoci soltanto tempo, salute e denaro e questo a me io ogni volta che partecipo a questi incontri a livello nazionale esco assolutamente ricaricata cosa che non credo succeda partecipando a qualche riunione del consiglio dei ministri o di qualche giunta io lo dicevo solo perché a Termoli sono venuti meno D'Ambrosio e Di Giandominico che era un'espressione di liste civiche a Campopasso sono venute meno diverse quindi il mio riferimento partiva da questo probabilmente ci sono delle connotazioni e delle storie diverse se l'aspettava il passo indietro di Di Giandominico e di onestamente di D'Ambrosio di D'Ambrosio forse sapevamo che non era una cosa costruita da molto tempo di Di Giandominico non sappiamo neanche come leggerlo però ripeto è una persona indubbiamente molto intelligente un tattico politico con un'esperienza ventennale quindi è difficile anche leggerlo poi le dirò che la definizione di lista civica perché semplicemente non sei espressione di un partito noi la usiamo per semplicità ma è un po' anche limitativa perché ecco civica veramente è la nostra che nasce dalle lotte con i cittadini con tutte le limitazioni per carità che questo può avere con le inesperienze sicuramente le inesperienze di amministrazione però come abbiamo studiato io sono un insegnante d'inglese quello che posso portare in più è la mia conoscenza delle lingue e un sindaco poliglotta non fa male assolutamente però sicuramente ho imparato in questi 23 anni quasi 24 che non c'è nulla che non si possa fare se con umiltà ci si mette a studiare anche se non è quello che hai fatto tutta la vita credo che l'umiltà sia necessaria con l'umiltà si può arrivare ovunque perché l'umiltà ti porta a desiderare di ascoltare gli altri l'arroganza ti chiude il cervello e ce n'è parecchia in giro io le faccio un grosso in bocca al lupo grazie per essere bene comune rete della sinistra candidata al sindaco a Termoli della sinistra termina qui contro la rovescia contro la rovescia che torna come sempre il venerdì il venerdì sera alle 21 il sabato mattina in replica alle 11 in replica anche al pomeriggio a partire dalle 16 grazie per essere stati in nostra compagnia arrivederci grazie a tutti